Tuli, 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 tulipani Iniziata il 20 marzo scorso, la primavera è una delle stagioni dell'anno più belle e spettacolari grazie al risveglio della natura dopo il lungo periodo d'inverno. Se a questo ci mettiamo una novità, ovvero l'idea di un grosso giardino di tulipani, lo spettacolo è assicurato. Il Garden Center Florio di Pesaro organizza per sabato 2 aprile una giornata dedicata a questo fiore con tutti i suoi colori e sfaccettature. Benvenuti nel primo campo di tulipani, anzi giardino di tulipani all'interno della città di Pesaro. Ci troviamo proprio a fianco al nostro punto vendita, qui in via Lombardia e sarà possibile direttamente dal parcheggio accedere in questo campo giardino dove abbiamo piantato migliaia e migliaia di tulipani che stanno incominciando a fiorire. La particolarità di questo giardino è la sua composizione Grazie al contributo dei ragazzi dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro è stato pensato di adottare la forma di un vero e proprio tulipano con due grosse foglie e il lungo stelo ad arricchire la scena due farfalle realizzate con delle bordure di viole colorate. Sì, ci siamo ispirati ai campi vastissimi e sterminati dell'Olanda nella quale si organizzano delle escursioni vere e proprie dove c'è la possibilità proprio di raccogliere i tulipani personalmente. E anche qui tra le migliaia e migliaia di tulipani alle mie spalle c'è la possibilità proprio di raccogliere, di crearsi un proprio mazzolino e quindi sia di venire a fare un giro in maniera spensierata all'interno di questo campo giardino dai mille colori ma anche di acquistare questi tulipani estirpandoli direttamente dal terreno e comporre personalmente il vostro mazzettino.